ed eccolo qua il nuovo mutante ciao a tutti ora finalmente potremo provare il nuovo mutante finalmente a vedere già delle statistiche e comprandolo ho notato che non è così potente come potrebbe essere portata a pensare o meglio è potente però ma però ad esempio comparando con gamaglia gamaglia fa 1320 e 2770 con 5 cioè lui è più veloce coprisse 300 in me ne fa 200 in meno cioè non saprei dire dei due qual è che è il più forte se devo essere sincero ah ma ho notato una cosa ho notato no dove adesso il suo miglioramento è superiore a quello di gamale che gamale però fa più danno ha un miglioramento più forte ma è inutile stare qui a parlare se è forte lo svedevo queste cose qua proviamolo e lo proveremo facendo appunto qui da 31 40 così intanto andiamo anche avanti qua si ho fatto un po' di battaglia lo si vede al giudiconsiglio quindi project x28 si ho fatto un po' di battaglia lo si vede al giudiconsiglio e poi prendiamo il nostro nuovo mutante vero in caesu caesu perfetto no non riusciamo mi sa che non riusciamo a vederlo neanche se mi ci metti di impegno no si dice io già facciamo se sto qui non colpisce no 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 dai se non lo colpisce perfetto ci diamo il diamo questo stupido riccio e ora vediamo bene all'azione città 1 Goon Fu! Oh god! Perché va così male? Guarda un po' che lì possiamo vedere anche l'altra moto Più o meno, non si capisce niente Ah, del 25% Penso che forse vada male internet perché... Probabilmente, sì Ma che se ne frega tanto va sempre male internet, no? Mi mi curva tempo e riprendiamo il nostro amico qui Che modo devo portare l'attento a livello 100 Si va troppo a scampio va Quindi sì, dopo... Quindi sì, dopo questa battaglia che faccio voi Wow, questa è migliata sola Quindi vale la pena per me uccidere il Signore Basso E' Alien E' Alien Ecco Vi rifaccio vedere come ha solito la battaglia finale La... Quarantesima Poi dopo Uso l'Experience Jar Bar che ho Per far arrivare il livello 15 Per vedere la mossa potenziata Ci vediamo la quarantesima battaglia Dai Facciamoci la quarantesima battaglia Facciamocela così Ce la leviamo dei piedi E dopo faccio passare di livello con tutti i miliardi di cose che ho al nostro Varen In modo tale da riuscire a vedere subito com'è il livello 10, il livello 15 eccetera Chi non deve stare ovviamente qui con tutta la nave del mondo Aspetto anche a Bocciuta Quattro perchè tanto c'è un cane C'è un po' Che c'è cosa significa Finica sto cane Beh, è più scateto Che riesci pure a vedere di quanto Ammazziamo la rana sopra la rana Uccidiamo il Can Octopus Il Dottor Can Octopus Un canotto Perfetto Un canotto Perfetto Un canotto Eh addio dino Poi è conosciuta come Xena Principe di Vincivilo Principessa Guerriera Contraattacca Perfetto Abbiamo fatto Quattro su dieci Dell'evento Vabbè vabbè Qui c'è il vero evento E adesso prendiamo il nostro amicone qua Non ci riusciamo Perfetto 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 Adesso Adesso Metto Galattico Lo prenderò qui Bene casero Boost Boostiamo la bestia Perfetto 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 non si capisce niente non si capisce niente di quello che di quello che fa deve essere sincero non si capisce niente e vabbè volevo farlo oggi adesso il video ma inter mi ha dato conto quindi non abbiamo visto niente e un tanto vedremo la prossima volta e intanto giro gratis sì no 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 momenti che mi verranno questi qua sono molto felice quindi che vediamo al prossimo video ci sarà ciao